Il tema della transizione energetica che fa il paio con quella ecologica è stato al centro di un confronto tra i candidati alla presidenza della regione. Ad organizzare l'appuntamento a Termoli è stata l'associazione 4 giugno. La sede, quella della diocesi di Termoli Larino, sottolinea la vocazione ecologista del papato attuale e della spiccata sensibilità di Francesco verso i temi che riguardano la tutela del creato. Da ricordare sul tema l'enciclica Laudato Sì, con la quale Bergoglio ha tracciato le linee del proprio magistero sull'ambiente e sul creato. Passando da un Francesco all'altro e quindi da Bergoglio a Roberti, secondo il candidato del centrodestra, bisognerà puntare in futuro sulle comunità energetiche e sulla produzione di idrogeno. Questo anche in funzione di nuovi insediamenti produttivi come la Gigafactory di Stellantis. Cercare di trasformare le nostre terre in aree di terre semplicemente per parco fotovoltaici questo non va bene. Viceversa dobbiamo ipotizzare comunità energetiche, dobbiamo ipotizzare tetti fotovoltaici, dobbiamo ipotizzare tutta una serie di misure da mettere in campo a partire anche dal basso consumo affinché si possa avere una transizione ecologica senza troppi scossoni. Inoltre partiamo da un concetto molto importante, in Molise atterrerà Stellantis che tutti sappiamo sarà una di quelle aziende energivore che dovranno produrre batterie per macchine elettriche. È evidente che questa produzione deve avvenire attraverso una catena virtuosa, cioè utilizzare energia rinnovabile per produrre energia rinnovabile. Dunque il sistema auspicabile è quello di utilizzare anche impianti all'idrogeno perché questo consentirà l'utilizzo di energie rinnovabili per produrre idrogeno. Quando poi c'è una richiesta eccessiva di energia dall'idrogeno ottenere energia per garantire la produzione. Per Roberto Gravina, candidato presidente per il centrosinistra, il Molise sul tema deve recuperare un ritardo strutturale regolamentando gli insediamenti e abbandonando i no a prescindere. Intanto la politica del no sicuramente va abbandonata, del no a prescindere soprattutto perché sono temi che fanno parte dell'agenda nazionale, anzi c'è un ritardo forte da parte della regione molise, così come io ho notato poca attenzione alla circostanza che magari il Molise ha già consentito sul proprio territorio, non regolamentandolo, dei grandi investimenti e ho fatto l'esempio della Basilicata. La Basilicata ha preteso, producendo il petrolio e delle royalties, cioè dei vantaggi economici per i cittadini che vivono quel territorio per mitigare anche l'impatto e questo si deve fare anche in Molise visto che abbiamo per troppo tempo concesso permessi senza una regolamentazione facendo arricchire molto gli imprenditori e molto poco invece i cittadini che l'abitano. Per Emilio Izzo, candidato con la lista Noi non votiamo i soliti noti, ogni soluzione dovrà passare per le battaglie a tutela del territorio, del turismo e della cultura. Sono tutte belle parole se alle spalle non hai una storia di rispetto per il territorio, non hai una storia di lotte per il territorio perché i rispetto e le lotte sono imprescindibili rispetto a quello che tu vai ad approcciare, quindi se devi parlare di nuova ecologia, se devi parlare di economia rispetto a un territorio da preservare, lo devi fare sapendo che dietro devi avere una storia di rispetto. Se invece quello che è accaduto nel Molise negli ultimi dieci anni, un depredare con l'eolico e anche con un fotovoltaico impattante, allora forse qualche cosa bisogna rivederla. Noi siamo aperti alle soluzioni, quelle rispettose, quelle studiate da chi ci capisce, ma attenzione, partendo da un presupposto che la regione Molise ha un unico sbocco, è quello turismo e cultura. Quello si può fare soltanto se hai un territorio incontaminato.